Ma non è un controsenso, il calcio che succede, è abbastanza incredibile, chi seguì quell'anno il Pescara di Zeman non poteva nemmeno lontanamente immaginare che quei due giocatori nel 2021 potessero far parte di una nazionale. Però no, ma non farei grandi collegamenti tra questa cosa, anche perché molti giocatori, in signa non era del Pescara, l'unico del Pescara era il Ratti, per cui non avrei grandi rimpianti, è passato tanto tempo, meglio Galeone, a me Zeman non è mai piaciuto. Perché? Perché non mi intrometto? No, ma non è mai piaciuto, a me non è mai piaciuto il fondamentalismo di Zeman, non è che non è mai piaciuto come persona, mi è piaciuto come allenatore. Sì, sì, si parla dell'allenatore. Non sono mai stato un fanatico di Zeman. Mi sembra uno più pragmatico, Galeone, anche lì un'altra epoca, un'altra cosa, però Zeman non mi ha mai entusiasmato, insomma, come idea di gioco, eccetera. Capisco che ha fatto vedere un foggio eccezionale, dei momenti nella Lazio molto belli, anche a Pescara un anno, barra due, forse, buoni. Non sono mai stato uno Zemaniano, ecco, quello sì, sono sempre stato, ecco, per fare un esempio, sono più allegriano che Zemaniano, per farti capire un po', no? Sono più allegriano, sono due estremi oggettivamente, sono più allegriano che Zemaniano, sono più allegriano perché l'idea che c'è adesso, che ha anche Pirlo, per esempio, del possesso palla continuo, dell'avere sempre la palla, eccetera, è una cosa che non sopporto. Non è che non sopporto, è che non è l'unico modo di giocare, invece oggi sembra diventato l'unico modo di giocare.